In questa puntata, liste d'attesa criticità in Toscana, commissione di inchiesta su pandemia e vaccini anti-Covid. I carri giganti del Carnevale di Foiano della Chiana. Sport, un premio per il tennis club Sinalunga. Nel 2019, con l'adozione del nuovo piano regionale per il governo delle liste di attesa, ha affermato Bezzini, la regione ha implementato un set di indicatori, volte a misurare e a valutare le aziende sanitarie. In particolare, si è dotata di un indicatore, volta a misurare l'equità di accesso dei cittadini, che consente di fornire periodicamente alle aziende dati sulla domanda da soddisfare e su quanta ne sia stata presa in carico, implementando il sistema di monitoraggio delle performance previsto dalla normativa nazionale. La Toscana è dunque da ritenersi innovatrice nelle metodologie di analisi e ha avuto riconoscimenti dall'Università Bocconi, dall'Agenas e dalla stessa Corte dei Conti. Fossi stato al posto dell'assessore Bezzini o mi sarei dimesso un minuto dopo aver letto la relazione della Corte dei Conti o altrimenti avrei chiesto le dimissioni a un po' di persone, perché la Corte dei Conti ci dice cos'è successo in Toscana in questi anni in tema delle liste d'attesa e mi fa anche essere più sereno, perché io a un certo punto ho pensato di vivere in una realtà parallela, ovvero da una parte c'erano tantissimi cittadini, c'era la stampa, le televisioni che dicevano che il problema delle liste d'attesa era un problema grave, che ci volevano mesi, che le domande venivano rimbalzate in continuazione davanti a un muro di gomma. Dall'altra c'era invece l'assessore, i dirigenti che venivano in commissione, ci leggevano degli schemetti, ci leggevano dei dati dove tutto era a posto, quindi era una sorta di realtà parallele, di due realtà parallele. In realtà la Corte dei Conti ci ha detto che cosa succedeva, ovvero che era stato messo su un meccanismo di liste chiuse e di preliste. Cosa significa? La lista chiuse significa che ogni volta che non c'erano più posti per dare risposta alle prestazioni sanitarie che venivano chieste la lista si chiudeva, quindi le domande rimbalzavano appunto in quel muro di gomma che ci segnalano tanti cittadini e non venivano catturate dal sistema e quindi conseguentemente utilizzate a fini di monitoraggio. Oppure le preliste, quando la risposta alla richiesta di prestazione sanitaria avveniva oltre il limite previsto dalla legge, veniva inserita in una prelista che non faceva un'altra volta parte del sistema di monitoraggio appunto della Regione Toscana. Questo chiaramente ha negli anni artefatto il numero delle domande provocando un'esaltazione irreale dell'offerta. Cos'è successo? Le richieste in alcuni casi sono sparite, ogni qualvolta che non ci poteva essere una risposta è congrua e chiaramente la risposta è sembrata essere migliore di quanto in realtà fosse. Questo sistema è vietato dalla legge, molto semplicemente. La Corte dei Conti ce lo scrive chiaramente, ci scrive chiaramente che si è creato di fatto la sospensione delle prenotazioni ogni qualvolta il sistema non riesca ad assorbire tutte le richieste senza che il fenomeno sia rilevato a livello centralizzato e informatico. Ho trovato non insoddisfacente la risposta dell'assessore Bezzini ma surreale. I problemi delle liste di attesa sono dei problemi sistemici della sanità toscana, sia quelle chirurgiche sia quelle della diagnostica. E così facendo, cioè riuscendo a non gestire o a lasciare all'abbandono la gestione di questo sistema, significa mandare al collasso la sanità, i suoi operatori e i pazienti. Quando ha detto che la Corte dei Conti ha fatto una relazione che questa può servire, è utile come monitoraggio dell'andamento, come mezzo di valutazione, ha detto una berrazione. La Corte dei Conti non esprime dei giudizi per aiutare il monitoraggio. Quello lo deve fare la Regione e lo deve fare non chiudendo le liste con dei sistemi in cui altera i risultati. Lo deve fare seriamente, altro che Toscana innovatrice, come ha detto l'assessore. Vengono artificiosamente falsati i dati per non far risultare che molti utenti telefonano e trovano le liste d'attesa chiuse e dovranno ritelefonare. Quelle chiamate non vengono registrate. Siamo rimasti delusi, meravigliati e anche amareggiati dalla risposta dell'assessore Bezzini che è venuto candidamente in Consiglio regionale rispetto a due domande che noi abbiamo fatto in merito al concorso delle OS che si è svolto nel novembre la prova scritta e nel dicembre del 2021 la prova orale. Semplicemente chiedevamo ma perché rispetto a quel concorso ancora non è stato chiamato nessuno? È venuto e ci ha detto ma perché li dovevamo chiamare? Alla fine abbiamo assunto dal 2018 al 2022 1800 OS in più rispetto a quelle che erano nel 2018. Il tema è un altro allora. Perché avete fatto un concorso? Perché avete illuso 7000 persone che hanno partecipato al concorso? Perché avete detto a 7000 persone che hanno studiato, si sono preparate, sono andate alla prova scritta, hanno passato la prova scritta, sono andate alla prova orale nel dicembre del 2021, hanno passato la prova orale oltre 2000 persone che c'era un'opportunità di lavoro in regione toscana. Questo è il vero scandalo. Tutti i giorni giustamente i giornalisti tramite i canali stampa raccontano una sanità che non funziona, liste d'attesa incredibili, visite che non si fanno, persone che non sanno a chi rivolgersi, la Corte dei Conti addirittura fa un rilievo incredibile sulla sanità toscana, ci sono 500 milioni di euro di disavanzo nella sanità e candidamente ci viene detto ma perché le dobbiamo assumere. D'altronde abbiamo fatto un concorso, abbiamo speso soldi pubblici, aspetteranno il tempo che devono aspettare. In consiglio è stato fatto il punto su quanto è emerso dalla Commissione d'inchiesa sulla pandemia e sulla campagna di vaccinazione, una ricostruzione su quanto è accaduta a livello istituzionale durante la pandemia da Covid-19. Alla fine di questo lungo lavoro abbiamo evidenziato il fatto che la regione toscana si è trovata a gestire, come le altre regioni, una situazione straordinaria e inedita e di caratura globale, per cui con un panorama assolutamente nuovo e strumenti inizialmente molto carenti, pensiamo, mancavano le mascherine, mancavano i respiratori. Devo dire che ricostruendo anche il percorso normativo che la regione ha messo in campo si vede come si sia da subito mobilitata la Giunta, il Presidente Rossi nel mettere in campo con le prime ordinanze intanto un modello di governance molto stretto, molto snello che poteva basarsi anche sulla riorganizzazione del sistema sanitario in soltanto tre aziende e quindi con una rapidità di diffusione delle decisioni davvero unica e poi le decisioni di allestire oltre 280 postazioni di terapia intensiva nuove l'istituzione delle USCA che a regime sono arrivate ad essere 160 unità un lascito che ancora oggi abbiamo e che dovrà essere ulteriormente valorizzato proprio nella fase di costruzione della medicina territoriale pensiamo agli alberghi sanitari, ai percorsi protetti negli ospedali per i Covid e non Covid una riorganizzazione profonda alla quale comunque la regione ha saputo rispondere in maniera efficace e resiliente Oggi è stata l'occasione per depositare un atto ufficiale con la quale appunto partendo dalla Toscana si possa chiedere anche a livello nazionale una commissione di inchiesta perché nel mentre le persone morivano, nel mentre le persone venivano soccorse, venivano in alcuni casi curate nel mentre il volontariato e i medici davano tutto a se stesso per aiutare gli altri c'era chi faceva affari, magari sulla disgrazia degli altri e questo va messo alla luce, va fatto una commissione di inchiesta con poteri parlamentari quindi dalla Toscana, dall'esperienza positiva di un'indagine ovviamente conoscitiva così come avviene a livello toscano, parte una richiesta forte a livello nazionale perché questo possa essere raccolto anche a livello nazionale e a quel punto fare una commissione permanente di inchiesta per verificare effettivamente quello che ha funzionato e soprattutto quello che non ha funzionato quando al governo c'era Giuseppe Conte Taluni ritardi, taluni situazioni dettate da una impreparazione o da una cattiva comunicazione possono essere costate chiaramente parte delle vittime che registriamo all'interno del fattore Covid in regione toscana nonostante questo il lavoro costruttivo che abbiamo prodotto mette in risalto non soltanto la straordinaria capacità di resilienza di tutto il sistema sanitario regionale, di tutto il terzo settore di questa regione toscana che è un patrimonio, una ricchezza inestimabile che va oltremodo valorizzato rispetto a quanto si riesce a fare ora e di quanto sostanzialmente comunque ci sia anche nella divergenza delle conclusioni di questo lavoro la volontà abbastanza convergente in realtà di arrivare a recuperare un rapporto migliore del rete ospedaliera con il territorio partendo chiaramente dagli ospedali di periferia. Secondo noi l'arrivo di Figliolo ha poi cambiato le linee, si è andate a vaccinare gli ultraottantenni ma nella fase precedente ci siamo dimenticati per esempio che non avevano priorità i disabili, i loro caregiver e su questo la regione toscana non ha fatto niente. E poi anche sulle vaccinazioni degli anziani, degli ultraottantenni, insomma è stata una discussione ampia che ha portato il frutto di quel lavoro che abbiamo fatto in questa commissione speciale. Oggi possiamo affermare che se non ci fosse stata questa commissione d'inchiesta i cittadini non avrebbero mai saputo che in regione toscana c'era un piano pandemico aggiornato al 2008 e che non solo non era stato aggiornato ma non era mai stato attuato neanche in minima parte. Questo che cosa ha voluto dire? Ha voluto dire che ci siamo trovati di fronte a una emergenza completamente impreparati ma per quanto fosse condivisibile il fatto che era impossibile pensare a stoccare grandi quantitativi di dispositivi di protezione individuale nei magazzini, vista l'eccezionalità della situazione l'attuazione di un piano pandemico ci avrebbe trovato pronti non solo nella catena di comando ma anche nella gestione della comunicazione verso l'esterno, verso quei cittadini che si sono trovati indifesi, ignari e soprattutto soli di fronte a un problema che era fondamentalmente nuovo. Quello che è fondamentale in una fase emergenziale è la gestione del panico della popolazione. Tutto questo non è stato fatto. Alvia la 484esima edizione del Carnevale di Foiano della Chiana. L'appuntamento è per 5 domeniche, dal 5 febbraio al 5 marzo. Il Reggio Condo torna a far Baldoria, torna a far rividere le strade, le piazze di Foiano della Chiana uno dei carnevali più belli e più antichi d'Italia e io sono davvero felice che quest'anno torni nel suo tempo, il tempo del Carnevale dopo un'edizione che non si è svolta per i Covid, un'altra che purtroppo si è svolta in un periodo diverso da quello del Carnevale, oggi finalmente una comunità torna a rivivere anche nella competizione tra quartieri la bellezza della storia, delle tradizioni, della sua identità. Il Carnevale di Foiano è uno dei più antichi d'Italia, risale dal 1539 per cui quest'anno è la 484esima edizione, è un Carnevale storico è un Carnevale dove si, oltre al divertimento, si predilige la parte artistica della lavorazione della carta pesta i nostri carri sono tutti completamente fatti in carta pesta e sono tutti meccanici per cui noi li chiamiamo i giganti della carta pesta dove sono dei carri che sfilano nel corso del centro storico del paese dove a un certo punto esplodono nella loro maestosità, nella loro grandezza perché sono carri che in larghezza raggiungono quasi gli 8 metri, anche 10 qualche volta e in altezza fino a 16 metri, per cui sono carri imponenti e dove tutte le figure si muovono meccanicamente. Una targa al Tennis Club Sinalunga per celebrare i numerosi successi a livello nazionale raggiunti in poco più di 60 anni di storia. Un risultato che ci manda un messaggio di speranza, che tutti possiamo farcela basta ricordare i risultati degli anni precedenti un Tennis Club che negli anni è cresciuto e che appena arrivato in A1 è riuscito a vincere il campionato. Gli ingredienti quali sono? Un gruppo di persone appassionate che si dedica, anima e core, come si dice, a questo sport, a questa disciplina con grande sacrificio, sacrificando appunto tempo libero e affetti personali e un gruppo di ragazzi splendidi che negli anni sono cresciuti grazie anche allo staff tecnico che si è realizzato a Sinalunga negli anni che insomma, dobbiamo dire, onore al merito, ha fatto crescere il livello dei ragazzi facendoli sì divertire e giocare ma fra tutti questi ragazzi sono nati poi degli atleti che alcuni sono qui in questa sala, sono stati fondamentali per il risultato che abbiamo ottenuto. Una soddisfazione che ci gratifica a tutti i livelli perché vedere il nome del mio comune, del circolo tennis di questo comune, piccolissimo insomma, accostato a circoli importanti, insomma, di livello nazionale è sicuramente una gioia infinita, tutt'oggi ancora abbiamo lo striscione attaccato davanti al municipio. Grazie a tutti